Pupazzino di neve Prima di farvi vedere l'occorrente e di vedere insieme il tutorial Volevo ringraziarmi Mentre stavo facendo il tutorial sono andata a vedere un attimo sul canale E ho visto che siamo arrivati al traguardo di 30.000 iscritti Io ho visto che molti altri canali quando ci sono i traguardi 30.000-50.000 Fanno qualcosa di speciale Io avevo in mente di fare qualcosa Però magari la faremo per i 50.000 iscritti Faremo una cosa tutti insieme Però per prepararla ci vuole un po' di tempo Quindi onestamente non ho avuto il tempo per prepararla per adesso Io vi ringrazio tutti Siete 30.000 pensieri E 30.000 persone alle quali io mando veramente un grosso bacio Vi ringrazio per questo attestato di stima Che francamente poco più di un anno fa Non avrei mai immaginato di poter ottenere da voi Di poter ottenere tanto affetto da tante persone Bene, a questo punto Dopo i miei doverosi ringraziamenti a tutti e 30.000 a voi Vi faccio vedere cosa occorre E andiamo a vedere come si realizza il nostro pupazzino di neve Allora, andiamo a vedere cosa occorre per realizzare il nostro pupazzino di neve Allora, innanzitutto abbiamo bisogno ovviamente del filato bianco Questo è un gomitolo da 50 grammi E quindi ne avrò utilizzato una trentina di grammi Per realizzare tutto il pupazzo di neve Ma forse neanche 25 grammi più o meno Di bianco, di questo gesso Questo bianco neve, chiaro chiaro Poi abbiamo bisogno del rosso Per realizzare la sciarpina e la bandina della tuba Del cappello del nostro omino di neve Del nero per realizzare il cappello Dell'arancione per fare la carota al nasino Poi abbiamo bisogno del marrone per fare le braccia I bastoncini di legno al posto delle braccia E del verde per realizzare il piccolo rametto di agrifoglio Che metteremo nel cappello Ma di questo ce ne serve veramente una gugliata Di arancione anche perché dobbiamo fare solo il nasino E insomma dovete prendere dei piccoli Forse nero e bianco sono quelli che utilizziamo di più Perché con il nero facciamo il cappello Con il bianco facciamo il corpo del pupazzo di neve Ma poi per il resto sono tutte piccole e gugliate Abbiamo bisogno dell'imbottitura Per gli occhietti e i bottoncini Potete utilizzare sia dei bottoncini di sicurezza Se soprattutto dovete Scusate degli occhietti di sicurezza Soprattutto se regalate questo pupazzetto di neve A un bimbo piccolo magari è sempre meglio Altrimenti se questo pupazzetto è una decorazione Che voi realizzate per casa Potete anche utilizzare questo tipo di prodotto Che è una gomma spugnosa E qui c'è scritto così Gomma spugnosa Ed è quella che io ogni tanto vedete nei tutorial Io l'acquisto in un negozio di bricolage Questa La vendono in fogli Vedete tipo a quattro La grandezza di un foglio a quattro E la vendono E ci fate con una fustellina Con un fermo Questa qui basta anche il retro di una penna Spingete Fate il segno Poi ritagliate Per fare gli occhietti E i bottoncini del pupazzo di neve Poi abbiamo bisogno di un pezzetto di cartone Un pezzettino di cartone rigido Per fare l'interno della tuba E il cerchietto che va all'interno della tuba Per irrigidire il nostro cappello Un qualsiasi supporto tondo Che sia di 5 cm di diametro Che è poi il diametro della tuba Del cappellino Del nostro pupazzo di neve Un ago da lana Una pinzettina Per attaccare i bottoni Se attaccate i bottoni con l'ago e filo non vi serve Se invece li volete attaccare con la colla Un pochino di colla Un paio di forbici E per le braccine Un pochino di questo filo Metallico di alluminio Che è molto morbido Per realizzare le braccine Del nostro omino di neve Bene Andiamo subito a vedere come si realizza Il nostro simpaticissimo pupazzo di neve Allora partiamo subito E iniziamo con un anello magico Di 6 maglie basse Quindi una Due Fino a 6 Terminate le 6 maglie basse Tiriamo il filo Stringiamo l'anello E andiamo a realizzare 6 aumenti Quindi 2 maglie basse In ognuna delle maglie sottostanti Al termine dei 6 aumenti Ci ritroveremo nel nostro lavoro 12 maglie basse Nel giro successivo Andiamo a fare Una maglia bassa E un aumento Maglia bassa Marchiamo E un aumento Una maglia bassa E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro Che terminerà con 18 maglie basse Nel giro successivo Andremo a fare 2 maglie basse E un aumento Quindi una Due maglie basse E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro Quindi per 6 volte Che terminerà con 24 maglie basse Nel giro successivo Andremo a fare 3 maglie basse E un aumento Una Marchiamo Due Tre maglie basse E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro Che terminerà con 30 maglie basse Andiamo con il giro successivo Il sesto Nel quale faremo 4 maglie basse E un aumento 4 maglie basse E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro Che terminerà con 36 maglie basse Nel giro successivo Facciamo 5 maglie basse E un aumento 5 maglie basse E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro Che terminerà con 42 maglie basse Nel giro successivo Percederemo per fare 6 maglie basse E un aumento 6 maglie basse E un aumento Che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 48 maglie basse procediamo adesso con il fare 14 giri concentrici di 48 maglie basse quindi per 14 giri lavoriamo le maglie come si presentano procediamo adesso con il 23esimo giro nel quale andremo a lavorare 6 maglie basse e una diminuzione quindi una, marchiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse e una diminuzione la diminuzione negli ami volumi si effettua andando a prendere le due costine interne dei due punti successivi che dobbiamo diminuire quindi invece di prendere tutto il punto come facciamo solitamente quando lavoriamo la maglia bassa abbiamo due costine nel punto, 1 e 1 a 2 noi per andare a lavorare la diminuzione andiamo a prendere solo ed esclusivamente questa costina la costina esterna o interna a seconda di come la vedete voi per me è la costina interna questa la costina esterna è quella che dà verso l'esterno del lavoro quindi andiamo a chiudere prima le due costine e poi la maglia bassa e procediamo lavorando 6 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro che terminerà con 42 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale andremo a lavorare 5 maglie basse e una diminuzione 5 maglie basse è una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 36 maglie basse nel giro successivo andremo a lavorare 4 maglie basse e una diminuzione 4 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 30 maglie basse quindi 1, 2, 3, 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro nel 26esimo giro andremo a realizzare 3 maglie basse e una diminuzione quindi 1, 2, 3 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 24 maglie basse nel 27esimo giro andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione 1, 2 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 18 maglie basse lavoriamo adesso 2 giri completi di 18 maglie basse quindi il 28esimo e il 29esimo giro li lavoreremo con le maglie come si presentano adesso potrete decidere se imbottire subito o imbottire dopo perché adesso andiamo a fare la testa del pupazzo di neve io imbottisco dopo perché è più semplice lavorare senza imbottitura io lavoro meglio poi voi decidete se preferite imbottirla adesso o imbottirla dopo andiamo a lavorare quindi nuovamente gli aumenti perché andiamo a realizzare ora la testa adesso abbiamo 18 maglie basse e nel trentesimo giro andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento 1, 2 maglie basse e nuovamente un aumento 2 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che ci riporterà nel nostro lavoro 24 maglie basse nel giro successivo andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento 3 maglie basse e un aumento che ci riporteranno lavorate per tutto il giro 30 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale andremo a lavorare 4 maglie basse e un aumento che ci porteranno al termine del giro quindi dopo 6 volte 36 maglie basse lavoriamo adesso 36 maglie basse per 8 giri concentrici quindi dal trentatresimo al quarantesimo giro lavoriamo le maglie come si presentano andiamo adesso a questo punto ad imbuttire quindi allunghiamo l'ultimo punto lo fermiamo con il marca punti con una spillina da baglia e andiamo ad imbuttire bene procediamo adesso rimettendo il l'uncinetto nell'ultimo punto andiamo a realizzare le diminuzioni quindi andiamo a fare nel quarantunesimo giro 4 maglie basse e una diminuzione 4 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 30 maglie basse 3, 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro nel giro successivo il quarantaduesimo 3 maglie basse e una diminuzione quindi 1, 2, 3 maglie basse e una diminuzione 3 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 24 maglie basse procediamo adesso con il quarantatresimo giro nel quarantatresimo giro andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione quindi 1, 2 maglie basse e una diminuzione 2 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 18 maglie basse nel giro successivo andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro e termineremo lo stesso con 12 maglie basse andremo poi a chiudere il lavoro andando ad effettuare una diminuzione dietro l'altra quindi diminuiamo consecutivamente fino a chiudere tutto il buchino ovviamente prima di chiudere tutto andiamo a terminare di imbottire anche la testa del pupazzo di neve come vi dicevo una volta che avremo realizzato una maglia bassa e una diminuzione abbiamo 12 maglie basse e a questo punto andiamo a diminuire consecutivamente quindi facciamo una diminuzione dietro l'altra così fino a chiudere completamente tutto il buchino così una dietro l'altra prendiamo adesso il filo di alluminio o filo di metallo quello che avrete trovato ne tagliamo due pezzettini di circa 10 cm così prendiamo uno il filo marrone e l'uncinetto prendiamo uno dei due pezzettini di metallo facciamo un nodino nel filo lo fissiamo all'uno dei delle due estremità di un pezzettino di metallo facciamo un paio di nodini per fermare bene dopo di che con l'uncinetto andiamo a realizzare una serie di maglie basse intorno a questo pezzetto di metallo in modo da ricoprirlo entriamo facciamo una maglia bassa passiamo sotto con l'uncinetto passiamo sotto il filo di metallo agganciamo il filo torniamo sopra filo sull'uncinetto maglia bassa passiamo sotto agganciamo il filo lo riportiamo sopra filo sull'uncinetto maglia bassa sotto agganciamo portiamo sopra acchiappiamo nuovamente il filo e lo facciamo e facciamo la maglia bassa quindi sotto così passiamo sotto acchiappiamo il filo tiriamo su e facciamo una maglia bassa è molto semplice è proprio un lascio che e andiamo a ricoprire tutto il filo di metallo in questo modo dopo che ne avremo fatto un pochino per evitare di diventare matti andiamo a fermarlo sopra quindi pieghiamo la punta del metallo la schiacciamo verso la lavorazione e la ripieghiamo ancora una volta così in questo modo in modo che non scappi più e così e continuiamo tranquillamente a riempire a riempire il nostro pezzettino di metallo di maglie basse una volta che avremo lavorato un discreto numero di maglie basse lasciamo un centimetro e mezzo circa in fondo e poi torniamo indietro quindi rifacciamo il percorso a ritroso ovviamente in maniera più morbida più blanda nel senso non fitta come all'andata e andiamo a fare nuovamente lo stesso lavoro passando sopra le maglie e non entrando all'interno delle maglie quindi passiamo sotto tutto il bastoncino questa volta ricoperto e così e torniamo indietro facendo un po' di maglie basse e arriviamo fino alla sommità estrema una volta arrivati in cima ci inseriremo in una maglia ne lasciamo due maglie in fondo ci inseriamo nella prima entriamo facciamo una maglia bassa una due tre catenelle una aggiuntiva tre maglie basse nelle tre catenelle appena fatte una due scusatemi ma mi sto raffreddando nuovamente tre ci agganciamo alla maglia di base facciamo una maglia bassissima e adesso entriamo nella maglia successiva così nuovamente maglia bassa una due tre tre quattro catenelle e tre maglie basse una due tre maglie basse ci agganciamo alla base nuovamente maglia bassissima a questo punto tiriamo tagliamo e fermiamo e fermiamo il filo adesso riprendiamo nuovamente la pinzetta e andiamo a rivoltare un'altra volta la punta in modo da nascondere il pezzetto di metallo così in questo modo stringiamo bene in modo da bloccare così poi prendiamo una goda lana inseriamo il filo nel lago e andiamo a fare sparire il filo di lavorazione però prima se il metallo è ancora visibile andiamo a nascondere e finire di nasconderlo facendo dei punti in modo da nascondere completamente tutto il metallo